segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te sì ciao buon pomeriggio allora io intanto mi trovo sulla strada in questo momento da zacepilovka vi avevo ci eravamo lasciati prima che ero a zacepilovka appunto in questo in questa regione agricola tradnipro e kharkiv adesso stiamo andando verso micolive per seguire appunto il racconto del grano quindi la crisi quella che è la crisi in questo momento degli imprenditori e degli agricoltori e quella crisi che poi si riflette appunto in in tutta europa gli imprenditori che ho trovato in quella regione quindi tradnipro e kharkiv sono imprenditori che semplicemente hanno il loro prodotto bloccato quindi non riescono a vendere il grano dello scorso anno e non riescono e quindi hanno non soltanto grano per la verità ma hanno anche mi sentite sì sì prego prego luciana ti ascoltiamo in silenzio il religioso silenzio dicevo non hanno soltanto grano ma in realtà l'ucraina è il primo paese esportatore al mondo di olio di girasole quindi di anzi di semi di girasole e poi anche di altri cereali intanto stiamo vedendo le tue immagini luciana così magari ci dici anche precisamente cosa vediamo esatto lì nei campi si lavora appunto come potete vedere questo era un campo in realtà questo era appunto uno dei maggiori agricoltori della zona lì lavorano come si lavora in condizioni normali però quello che state vedendo è il prodotto che rimane bloccato quelle sono montagne di semi di girasole che lo scorso anno questi produttori avevano venduto e quest'anno hanno tutti li bloccati l'ucraina ricordiamolo esporta il 75 per cento di semi di girasole che vengono venduti in tutto il mondo quindi è un problema appunto è un problema molto grosso è un problema che investe loro in quanto evidentemente non riescono a fare il loro lavoro comunque a vendere il loro prodotto ma in realtà è un problema molto serio anche fuori dall'ucraina certo loro è ovviamente un problema perché questa azienda quella che state vedendo ad esempio a 120 persone che lavorano lì quindi è ovviamente un problema perché si riflette appunto anche sul per esempio salario dei dipendenti ci sono anche altri fattori collaterali ad esempio l'aumento di prezzi su tutto mi hanno fatto l'esempio della benzina loro per esempio pagavano la benzina agricola prima a 20 grivne al litro adesso è arrivata a costare 65 grivne al litro e stiamo parlando di grosse quantità quindi loro dovrebbero in teoria anche avere dei vantaggi quindi diventa tutto molto molto complicato stiamo parlando della benzina che si utilizza ad esempio per i trattori c'è un altro problema il problema interno quindi c'è il problema dell'export da un lato e quello lo vediamo perché vediamo appunto da settimane ormai in realtà dal 24 di febbraio le navi bloccate al porto di odessa dovrebbero esserci in totale 25 milioni di tonnellate se non erro di tracce reali e semi di girasole bloccati e poi c'è il problema interno perché appunto intervistato anche un altro agricoltore che mi dice io in realtà di export facevo poco però anche a vendere in ucraina non ci riesco più perché ovviamente molti locali sono chiusi molti esercizi sono chiusi non c'è molti molti sono semplicemente andati via non c'è quindi non c'è più quel mercato che prima c'era evidentemente non c'è quel mercato che prima c'era e dall'altra parte un'altra faccia invece di questa crisi vista dall'interno sono ovviamente i campi minati abbiamo parlato ad esempio con degli agricoltori noi non ci potevamo andare ma loro erano in contatto con degli agricoltori in alcune zone occupate che lamentano appunto di aver subito dei furti cioè loro dicono non c'hanno i russi ci hanno rubato sia i trattori e sia appunto il prodotto ovviamente sono informazioni perché rispetto a questo tra l'altro ci sono anche immagini e notizie che arrivano quindi fermate